Per farlo serve recuperare anche un rispetto tra di noi, io ne sono convinto e non da oggi, ma il punto non è solo di stile, che peraltro non guasta, è che oggi questa ambizione, questo progetto storico, il PD, per come l'abbiamo immaginato, potrebbe finire. E io penso che sarebbe una sconfitta, sarebbe una sconfitta per chi dovesse scegliere di andare e per chi dovesse rimanere. E allora, per non trovarci al punto di partenza, buttando via dieci anni, noi abbiamo il dovere di restituire alla voce, al pensiero, alla scelta dei nostri iscritti e militanti, lo scettro di una decisione sul loro avvenire, senza strappi, senza forzature, senza provocazioni tra noi. Io lo dico perché se davvero il mondo sta cambiando, penso che al fondo dobbiamo cambiare anche noi. E questo lo fai cercando il nuovo, ma illuminando la strada, il sentiero. Ho letto come voi che in Nuova, credo, in Nuova Zelanda, 400 balene si sono spiaggiate, forse perché il Capobranco ha perso l'orientamento. E ne hanno salvato una parte con una catena umana che ha portato dell'acqua in attesa di una buona marea che le riportasse al mare. Forse dobbiamo scegliere chi siamo, se ci tocca la parte delle balene o di quelli che riempiono i secchi. Per il poco che possa contare, io direi che è meglio la seconda. Grazie. Grazie. Grazie.